Benvenuti alla rassegna stampa di sabato 26 settembre 2020, siete sul canale 17 di Fanno TV e questa è Occhio ai giornali. Cominciamo dal santo, i santi anzi di oggi perché la chiesa ricorda due santi, in particolare santi Cosme e Damiano. Il sole sorgerà alle 7.02, tramonterà alle 19.01 e adesso il tempo. E allora diamo uno sguardo al tempo per la giornata di oggi, avremo possibilità di brevi ed isolati fenomeni, più probabili nel settore montano in serata anche lungo la costa, i venti sono moderati da nord-ovest, forti però in mattinata lungo la fascia costiera. Domani, domenica, c'è anche la neve, addirittura possibili nevicate sulle cime più alte dei Sibillini, per il resto avremo nella mattinata precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio, più insistenti al centro-sud della regione. Vediamo le previsioni per lunedì. Lunedì avremo ancora possibilità di piogge sparse, più probabili nelle zone interne e nel settore meridionale della regione, poi condizioni di tempo stabile nella parte centrale della prossima settimana. E adesso i giornali, cari telespettatori di Fanotivum, andiamo subito a vedere il titolo d'apertura del resto del Carlino. Coltivava marijuana la bolletta arrivata record nei guai per il deposito di droga, gli chiedono mezzo milione per l'energia elettrica che ha usato, lui contesta però i conti. La coppia Magnini-Palmas, Fiocco-Rosa e Festa, benvenuta mia, Filo è diventato dunque papà, a centro pagina scuole a rischio caos, la fotonotizia contagi, isolate classi all'asilo il Glicine e al liceo Marconi. Un ragazzo di 21 anni a Durbino invece scomparso da 5 giorni a Fano, lo studio porta il digestore verso Falcineto e poi la sentenza assolto l'ex re delle fiere di Campanara. La buona notizia per il calcio, sciopero scongiurato, stasera la vis in campo, basket, WL, i tre americani, squadra in cima. A tutto, il Carlino Marconi, studente positivo, l'apertura finisce in quarantena una prima classe del liceo scientifico, lunedì tamponi a compagni e docenti, casi a macchia di Leopardo, anche la sezione di una materna a Pantano dovrà restare in isolamento. Mentre a centropagina la notizia, tra l'altro tenuta segreta, una trattativa tenuta segreta, ma a questo punto non lo è più perché c'è questa esclusiva del Corriere Adriatico, nella quale si parla di una compagnia aerea tutta marchigiana. Il Fondo Nord chiama raccolta i maggiori imprenditori del territorio per rilanciare il Sanzio, creando una compagnia aerea appunto made in Italy. Poi dopo le regionali invece tra Lega e Fratelli d'Italia la prima lite per la giunta, i totonomi. E poi questa notizia che sta facendo il Giro d'Italia con una casa editrice marchigiana che ha pubblicato un libro per bambini, delle elementari, nella quale c'è questa frase che sta facendo indignare, addirittura è arrivata in Parlamento, insomma, la fine del mondo. Con tutti i problemi che abbiamo, questi vanno a perdere tempo con queste bagianate. Ma comunque, a prescindere dal fatto, poteva essere anche scritta su un italiano e pubblicato negli Stati Uniti, è la stessa identica cosa, non c'è il problema, ma comunque noi ce li creiamo. E qual è il problema? Andiamo velocemente. C'è questa bufera per una frase razzista in un libro di letture per gli alunni della seconda elementare, edito dalla casa editrice Raffaello di Monte San Vito, nella quale frase c'è scritto, quest'anno, io vuole imparare italiano bene. Dice un bambino dalla pelle scura in un esercizio. Il caso approda in Parlamento per questa frase che ha fatto indignare chi non lo so. Il progetto è uno schizzo invece a Fano in stand by. Il digestore, secondo la versione ufficiale La Montana, ha chiesto ancora una settimana per presentare il suo piano. Questo per dire che in Parlamento si dovrebbe discutere di cose serie, c'è l'Italia che sta andando a rotoli, siamo alla vigilia forse di una nuova pandemia, e qui si parla di cose come se, non lo so, non riesco a capire, ma comunque. Covid, crescono i casi con i sintomi. Due pazienti in terapia intensiva sono diminuiti in realtà nelle Marche, perché erano qualche numero in più, quindi questo se vogliamo è una buona notizia. Nelle Marche, segnalati 33 positivi su 887 nuove diagnosi, il contagio resta tra le mura domestiche. Questo ormai lo diciamo da diverso tempo, il problema adesso è in casa, e quindi bisogna anche qui fare attenzione e soprattutto mantenere, purtroppo, le distanze anche in famiglia. Quindi se si era abituati a vedere magari un film, tutti abbracciati sul divano alla sera, questo è il momento purtroppo di prendere le sedie e mettersi un po' distanziati, e al posto di fare baci e abbracci, questo è il momento di stare un pochettino distanti. Questa è la storia, c'è poco da fare. I contagi ora sono in famiglia, quindi anche in famiglia, non sapendo se il proprio congiunto, i propri figli sono positivi o meno, bisogna adottare questi estremi rimedi. Prima o poi era inevitabile, dice invece il preside Riccardo Rossini, e speravo che fosse solo un po' più in là, ha detto. Ci sono 15 ragazzi in quarantena a Pesaro, la metà della classe, una prima che è stata a contatto con il ragazzo positivo, e poi ci sono quattro docenti. Ora loro fanno lezioni a distanza, l'altra metà verrà in classe, c'eravamo preparati, tutta la classe ovviamente è da sanificare, ma bastano 20 minuti, c'è una macchina, e questo dice il preside, lo facciamo tutti i giorni, senza verifiche veloci, se uno è positivo ma sta bene, rischia di contagiare altri ragazzi. Dunque ci vuole il test salivare, forse lo avremo a fine mese, non lo so, comunque questo è l'obiettivo. Adesso aspettiamo i risultati per gli altri, dice ancora il preside, vedremo se le misure funzionano, altrimenti è meglio tornare al blocco totale. Bimbo positivo, Flavio Bosio, dirigente dell'Olivieri, mentre Rossini, ovviamente forse non l'ho detto, preside del Marconi, allora Bosio invece è dirigente dell'Olivieri, che dice, bimbo positivo, segnalato dai genitori, abbiamo subito fatto scattare la procedura, le famiglie sono state avvisate e sono serene, la classe non è rientrata, non è entrata in contatto con nessuno all'interno dell'edificio. Se va in quarantena, un prof delle medie, che però ha più classi, bisognerebbe nominare vari supplenti. Questo è il problema. Il problema però è anche dei pediatri. I pediatri già in mezzo al caos, titola il Carlino questa mattina, ci vuole troppo tempo per i test. Parla Bruno Arcangeli, segretario della Federazione Regionale. Ho chiesto un tampone per un bambino il 23 di settembre. Ancora non l'hanno contattato. Le aziende sanitarie non fanno bene, dice la loro parte. Scuola materna e liceo scientifico, due positivi ancora dunque quarantene. Un bambino dell'Istituto per l'Infanzia Olivieri e uno studente del Marconi, contagiati dal virus. I compagni isolati a casa. I casi in provincia ormai sono cinque. Tinazzi, i protocolli però funzionano. Anche un calciatore di 26 anni, residente a Vallefoglia, è tra i sette positivi che ieri figurano nel bollettino del Gores. L'area vasta, intanto il bonus per il personale c'è, non il premio Covid. Manca ancora un accordo sindacale per poter riconoscere l'incentivo. Cigelle e Will non ci stanno. Dunque lunedì ci sarà una manifestazione a Fano con la RSU, quindi una sorta di protesta. E poi ancora sul quotidiano di questa mattina il Carlino D'Aurbino, Kevin, chi l'ha visto scomparso da cinque giorni, è un ventunenne originario del Pesarese, alloggiava in una cooperativa, ha bisogno delle medicine, ma è un allontanamento volontario. Il Presidente Pozzi dice sono abbastanza sicuro che sia in giro a divertirsi e magari presto tornerà. Poi, sempre da Urbino, materassi, divani e sporcizia varia, discarica abusiva sotto il mausoleo. Queste sono le immagini. San Bernardino, la protesta delle famiglie, la gente viene da fuori per gettare qui i loro rifiuti, occorre spostare i bidoni oppure mettere le telecamere. Coltivava marijuana nel capannone, bolletta della luce da 484 mila euro. Era stato arrestato per la coltivazione illegale per il furto di energia elettrica necessaria all'attività. Ma ora il suo avvocato contesta il conto maxi, ha debitato i consumi per periodi che non lo riguardano, dice il legale. Una questione di destino, ma se mi tocca la sanità, rivedo gli ospedali unici. Sul Corriere Adriatico c'è un'intervista a Filippo Saltamartini, che è uno di quei politici avvezzi ai successi elettorali. Senatore per due mandati, primo cittadino di Cingoli, e poi rieletto ancora, anche se stavolta in Consiglio Comunale, ed ora vice sindaco. Eppure questa affermazione alle regionali ha avuto su di lui l'effetto di una scarica di adrenalina inaspettata, tanto da tenerlo sveglio anche di notte. Sarà perché è risultato il secondo più votato in tutte le marche della Lega e perché il centrodestra per la prima volta è al governo nelle marche. Lui dice che in odore di assessorato prima pensiamo a valorizzare le strutture esistenti, ma se mi toccherà la sanità, quindi diventerò assessore alla sanità, rivedrò gli ospedali unici. Per le rotte impossibili, parliamo dell'aeroporto Sanzio di Falconara, l'aeroporto delle Marche, c'è una compagnia aerea marchigiana che si potrebbe formare. C'è una mail riservata che è indirizzata a 40 biglie dell'economia regionale. Pronto a partecipare c'è anche il fondo Gnord. Si comincerebbe con i voli per Roma e per Milano per proseguire con mete internazionali a corto raggio. C'è anche un business plan che sta girando appunto in questa mail. Entro ottobre ci potrebbe essere l'attivazione della società. per marzo del prossimo anno l'inizio invece dell'attività con due aerei a T-72 per Roma e per Milano. L'obiettivo però è quello di arrivare a 10 aeree e quindi gestire qualcosa come 300 mila passeggeri l'anno e 50 le assunzioni previste. Il capitale sociale di questa società sarebbe di 5 milioni, 2 milioni e mezzo di contingenzi restituibili però in 100 giorni. Poi le quote che sono già sul piatto 750 mila euro del fondo Gnord e un milione e mezzo che due imprenditori locali avrebbero già pronti lì perché hanno detto sì e hanno aderito. Poi c'è anche la società Aernostrum con 750 mila euro e poi altre piccole quote che insomma piccole si fa per dire che potrebbero dare imprenditori interessati a questo progetto. Poi le ipotesi di rotte le vedete qua sulla destra sono diverse tra cui Spalato, Scoffia, Tirana, Corfu, Alguero e quant'altro. Assolto l'ex re delle fiere di Campanara Mario Formica se era candidato anche in provincia nel 2015 l'amarezza nel racconto di un uomo che ha perso tutto con l'accusa di evasione. Assolto con sentenza della Cassazione dopo un calvario di anni ed anche un libro sulle sue disavventure giudiziarie intitolate Lapislazzoli e Carte Bollate sbatte il mostro in prima pagina è Mario Formica 65 anni nato a Piobbico poi con la famiglia finisce Urbania quindi studia l'alberghiero l'alberghiero Sant'Amato un percorso di studi che lo porta poi in Romagna dove Rimini inizia la sua carriera come uomo degli allestimenti delle fiere e da dove partono anche i guai e cioè l'intervista l'intervista sul carriero di questa mattina mi sono ritrovato dice col patrimonio sequestrato e ora sono con le pezze per quanto riguarda invece la guardia di finanza c'è stato un cambio al vertice del comando provinciale di Pesero alla guida adesso c'è il colonnello Enrico Blandini andiamo sulla pagina di Fano invece del resto del carino perché si parla del digestore il digestore anaerobico lo studio potrebbe dire falcinetto falcinetto dove realizzare questo digestore il sindaco Seri dice non c'è alcun vantaggio specifico a realizzarlo a Fano al contrario serve individuare un sito idoneo l'importante è che si realizzi attraverso la collaborazione di Aset e Marche Multiservizi poi qui di fianco invece la fotografia della vasca di accumulo vicino all'Arzilla i lavori sono terminati il presidente di Aset Raginelli dice grazie ai residenti per la pazienza un libro invece su Emma vittima di Corinaldo come poterla stringere un'altra volta dialogo immaginario tra un padre e una figlia i genitori dice vogliamo far conoscere il suo cuore cristallino verrà presentato il 30 settembre quando avrebbe compiuto 16 anni controlli sul pesce multato un ristoratore scatta una sanzione di 1000 euro 1500 euro dopo una verifica della guardia costiera merce sequestrata e poi distrutta una parte della categoria chiede un confronto per poter operare al meglio nella fotografia il tenente di Vascello Anthony Turzo sotto invece come cambierà la nostra città la città di Fano verso gli stati generali del turismo dobbiamo trasformarci in una località facilmente identificabile così dice l'assessore Lucarelli che sta preparando appunto questi stati generali sul turismo sempre da Fano Corriere Adriatico la ditta consegna solo brogliacci il sito del digestore può attendere secondo la versione ufficiale la Montana ha chiesto ancora una settimana per presentare il progetto e dunque si dilungano ancora una volta i tempi relativi alla identificazione del sito in cui posizionare il digestore anaerobico in ballo falcineto Monteschiantello e Bellocchi Seri parla di scelta su criteri oggettivi per le multe invece prosegue il trend del lockdown un calo vertiginoso affano di sanzioni per violazione del codice della strada anche nei mesi di maggio e di luglio quindi gli automobilisti sono più disciplinati ciclabile invece la ciclabile dell'Arzilla si bussa a Roma per i fondi della mobilità sostenibile nella notte realizzata la fondazione della vasca di decantazione attigua al tracciato della pista stati generali del turismo incontro plenario a teatro saranno presenti politici locali e nazionali forse anche il debutto di Acquaroli come presidente della regione la settimana africana regionale Blessing Girls e Shalom le novità in dirittura ad arrivo i due ultimi sogni di Italo Nannini dedicati entrambi alla maternità l'evento dedicato al continente più sfruttato comincia domani si concluderà il 3 di ottobre a Urbino mensa scolastica più cara la trappola delle assenze Viva Urbino e PD denunciano un servizio più oneroso tutte le strutture in emergenza e da oggi il Palazzo dello Sport di Urbino porterà il nome dell'atleta Alberto Carneroli questa mattina alla cerimonia di intitolazione al campione che avverrà alle ore 10 e 30 sotto Kevin 21 anni di lui da lunedì non c'è traccia la segnalazione di chi l'ha visto ha rilanciato sui social la notizia della scomparsa della sua scomparsa dalla città di Urbino Vallefoglia Fiera di San Michele Arcangelo il meglio dell'agricoltura locale esaltarne le qualità e vivacizzarne la commercializzazione a Talacchio il riscatto dell'emergenza oggi e domani prima dei due weekend della Fiera di San Michele Arcangelo quarta edizione di un evento nato con l'obiettivo di promuovere le produzioni agricole premio Foruntino svelati i nomi dei vincitori sono Guccioni Due Mazzucca Mazzuccato Cassani Venenzini Zanchini e Litis Mattei di Urbino Valmetauro la scala antincendio Fossombrone della quale ci siamo occupati per entrare a scuola i bambini e l'uscita sono in balia della pioggia protestano i genitori dei più piccoli della primaria la situazione è insostenibile mentre a Fano il centro studi Vitruviani nuovo incarico per Oscar May il docente è stato nominato coordinatore scientifico sempre da Fano marciapiede di via Bracci invaso dalle sterpaglie percorso ad ostacoli per i ragazzini che raggiungono le scuole Quadrifoglio e Montessori Valcesano a San Costanzo taria giornata tre rate l'ultima gennaio 2021 per le tre attività chiuse durante il lockdown agevolazioni previste fino alla 50% poi pianta pericolante intervengono i vigili del fuoco abbiamo paura i residenti di Ponteria ritengono la via in sicura e poi mosaichiamo la città il festival è stata presentata in sala consigliare a Marotta il festival mosaichiamo la città in programma oggi e domani andiamo invece adesso sulla pagina di Senigallia le finestre sono oscurate restano chiuse la scuola primaria senza ventilazione anticovida alla Puccini affidati i lavori con urgenza l'asilo e la polemica pannolino vietato a nostra figlia di tre anni poi la spy cam in tilt per i fulmini tecnologia ostacoli in porto a Senigallia interventi su un impianto di biosorviglianza e sui dissuasori lo sport sospeso lo sciopero dunque la vis inizia l'avventura questa sera il Benelli esordio degli ambiziosi biancorossi contro il Legnago così in campo alle 20.45 allo stadio Benelli arbitro Crezzini di Siena vispesero che scende in campo con il 3412 Legnago 4312 questi sono gli schemi la panchina insomma tutti i nomi dei convocati sul fronte Alma Juventus Fano invece l'Alma Fano in missione nel bunker perugino e Granata di Alessandrini Alcuri Alcuri è lo stadio intitolato appunto di Perugia affronteranno la corazzata Umbra Zigrossi il calendario ci mette subito di fronte ad una partita difficile dunque scongiurato lo sciopero domani domattina l'Alma prenderà la direzione alla volta di Perugia dove nel pomeriggio alle 17.20 Alcuri affronterà la formazione perugina nel primo incontro del nuovo campionato dell'era Covid-19 e poi sempre sul resto del anzi no Corriere Adriatico il Fano mette a segno tre colpi oltre a Ferrara come erano le previsioni arrivano anche l'attaccante lungo il difensore Rulli ora alla rosa di mister Alessandrini mancherebbe solo un bomber esperto ma ci siamo quasi dice Mauro Traini direttore sportivo del Fano in eccellenza c'è grande entusiasmo anche ad Urbino per l'esordio domani allo stadio Montefeltro il debutto contro la San Giustese c'è un'intervista interessante anche simpatica spero di riuscire a farvela vedere non so se ecco riusciamo ad andare sul touch se era per un attimo bloccato Vis puoi fare il salto in B Fano Alessandrini super le profezie di Angelo Becchetti bandiera bianco-rossa e allora lui è il mister dei mister è un personaggio i tifosi lo conoscono sicuramente magari gli altri un po' meno ma insomma per chi frequenta gli stadi Becchetti è un personaggio di quelli che devi conoscere assolutamente lo ha intervistato Giorgio Guidelli in questa intervista carina anche simpatica tutta da leggere e lui parla parla sia della Vis Pesaro chiaramente la squadra che lui porta nel cuore ma anche del Fano sulla Vis abbiamo detto che dice questo girone è una piccola serie B potenzialmente Perugia Triestina Cesena Modena Samba e Vis sono le squadre che possono puntare playoff sul Fano dice il Fano deve rinforzarsi però ma ha una grande garanzia Alessandrini cioè l'allenatore ed è l'arma in più di questa società poi per quanto riguarda invece per quanto riguarda invece il campionato dice sa come mi piace chiamarlo questo campionato una coda alla vaccinara molto duro da digerire ma poi va giù che è una bellezza chiudiamo siamo quasi alla fine ancora dal dal resto del Carlino alla fine si gioca la Vis Balla Collegnago questo è il titolo del giornale in Tris invece siamo sulla VL un Tris d'assi pesante pronti a cominciare Cain Robinson e Massenat si sono presentati ai tifosi della Carpegna Prosciutto il Pivò dice in estate ho parlato con il coach e il suo progetto mi è piaciuto molto questo è il momento in cui appunto i tre americani si sono presentati ai tifosi chiudiamo con la lieta novella la lieta notizia che Filippo Magnini è diventato papà è nata mia la nostra famiglia splende sempre di più scrive il pesarese sui social ora a dicembre è atteso invece il matrimonio con Giorgia Palmas e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa grazie per averci seguito vi ricordo questa sera alle 20.30 il magazine 7 per occhio con tutte le notizie più importanti della settimana chiaramente terremo sempre una finestra aperta anche sull'attualità e poi naturalmente la rassegna che torna lunedì mattina alle 7 a voi tutti l'augurio di un buon fine settimana arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.